Buongiorno Alessa, stamattina siamo seduto di fronte al frutto della vita, questo è il buffet della Calabria, tutta natura, tutta roba naturale, fanno crescere i capelli, seno, quello che vuoi tu, basta che tu li mangi. E magari ti rinforzano anche il cervello. No il cervello è questo, per far crescere il seno questo e per far crescere i capelli su questo. Ah bionda, è ruficonintia? Ah è quello che fa crescere tutta una volta. Avete sentito? Detto poi da Alessandro, è fattibile? Come no, è fattibile. Vuoi dare un saluto particolare a qualcuno? Salutiamo a tutti che ci vogliono male, la faccio vostra. E io saluto tutti i calabresi nel mondo. Bravo, tutti i calabresi e tutti i pogliesi per favore. Ok.